L'Ordine dei Medici sta lanciando un progetto di protezione civile insieme alla Regione per l'emergenza Covid. Di cosa si tratta? Ma più che parlare di emergenza Covid è per l'emergenza in generale, ma assieme alla protezione civile tutto questo, bisogna considerare questo. Cioè dinanzi alle grandi emergenze, che possono essere, si va dai disastri alle grandi emergenze, quando interviene la protezione civile è opportuno che ci siano degli operatori presso i vari comuni che possono essere coinvolti e interessati da una grande emergenza, essere pronti a collaborare assieme alla protezione civile. Questo è il passaggio importante. Finora ci si era accorti che quando la protezione civile interveniva dinanzi a un grande disastro, talvolta prima che i collegamenti o perlomeno che il personale dei comuni poteva essere preparato a ricevere gli operatori della protezione civile, passava del tempo. Quindi essere pronti per sapere cosa fare, dove fare e come fare. Saranno formate da voi queste persone? Sì, sono formate da noi. Il progetto parte, è un lavoro che è stato portato da più di due anni come federazione nazionale degli ordini dei medici. Furono individuate tre regioni, la Sicilia, l'Abruzzo e l'Emilia. La Sicilia è capofila di questo percorso, io ero tutto il coordinatore nazionale di questa commissione. Quindi lavorare insieme, lavorare insieme a chi si deve occupare di emergenza. Il compito nostro è quello, assieme alla protezione civile, di formare non solo il personale che i sindaci metteranno a disposizione, per questo è presente l'Anci, ma anche a stretto contatto con i capi distretti delle emergenze. Per quanto riguarda le situazioni di emergenza, quanto è importante avere dei percorsi standardizzati? L'importanza sta nel fatto che nel momento in cui si deve intervenire perché succede qualcosa che presuppone l'intervento, o il sistema ha un'organizzazione tale che agisce come un sistema intelligenza e quindi ecco gli standard, oppure si aggrava la situazione che già è grave, quindi non c'è termini di efficacia ed efficienza. Ecco, l'importanza della standardizzazione sta proprio qui e la formazione è finalizzata ad ottenere alti livelli di standard che poi vediamo nella malaurata ipotesi in cui l'intervento è necessario. Il 118, come lei sa, è praticamente l'interlocutore privilegiato in caso di maxi emergenza, proprio perché abbiamo non soltanto l'idea di quella che è la territorialità delle ambulanze, delle postazioni di quant'altro, ma degli ospedali, quindi abbiamo proprio una fotografia. E poi considerate che è il nostro pane quotidiano, noi lavoriamo nell'emergenza, quindi è chiaro che è molto più complicato nella maxi emergenza perché la macchina del 118 in questo momento sta lavorando parallelamente, cioè deve continuare a dare la risposta al cittadino nell'ordinario, ma parallelamente sta lavorando per entrare nella grande macchina della protezione civile come sanitario per gestire il grande evento, quindi tutti questi pazienti Covid. Qui in pazienti Covid, ma la maxi emergenza è questa, cioè o si tratta di un agente che non conosciamo, biologico, invisibile, quindi un nemico invisibile, o si tratta di altre situazioni. Un terremoto. Un terremoto, un'eruzione vulcanica, io che abito a Catania. Allora, questo è un progetto fondamentale per quello che riguarda l'emergenza, la maxi emergenza nel nostro territorio siciliano, perché nulla dovrebbe essere lasciato al caso, tutto deve essere coordinato, tutto deve essere già prontamente utilizzabile e prontamente disponibile. E questo è il life motive di questo corso, proprio preparare le persone, preparare tutti gli enti a un'eventuale maxi emergenza e dare a ognuno il suo compito come indicato su quello che sono le linee guida della protezione civile nazionale.